Ciao a tutte pasticce, allora probabilmente sentirete una musica in sottofondo quindi ora in modo da coprirla perché non ci voglio di spegnerla, allora questo qua sarà un get ready with me, oggi andrò in università e quindi ho deciso di truccarmi un attimo poi ovviamente l'ho messo stamattina, andare all'università si toglie, saranno le 11 adesso e quindi andate tranquilli, non sarà così power, a parte che in videocamera è sempre più power che nella realtà, però vabbè, spero che questo trucco vi piaccia e vi lascio al mio get ready, ciao pasticce, ciao a tutte pasticce, questo è un get ready with me, allora ho già applicato tutto, mi manca solo il burro calcato, che ce l'ho qua perché il mio sta terminando a tutte pasticce, questo è un get ready with me, allora ho già applicato tutto a tutte pasticce, questo è un get ready with me, allora ho già applicato tutto a tutti 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 a tutti